Ciao a tutti ragazzi, sono qui oggi con... con... dai, con Emy, ciao Emy Giocheremo ad Among Us, qui vedete che c'è anche la zia di Emy che si chiama Id15N Io sono rosa, ecco tu sei la rosa, è iniziata la partita ma non siamo le impostatrici Con i gatti Tu sei rosa con i gatti ma è iniziata la partita e noi non siamo gli impostori O eri tu l'impostora? Non te lo dico se sono io Io vado a cercare le... vorrà a cercare le mie missioni Eh, le sarò io Ci ho intravista Cerchiamo le nostre task, perché mi segui Emy? Che vuoi? Anche se l'impostora... sei andata lì con qualcuno, io vorrei andare a vedere Ah, sei uscita Ok, cerchiamo la... Emy mi stai seguendo Perché mi segui? Io faccio la task, allora devo allineare qui Devo allineare qui, fermi, non mi toccate Perché c'è tutta questa gente? C'è questo tizio con la corona Allora, vorrei cercare altre task Ma sta la freccia apposta Oddio, c'è troppa gente qui, Emanuela devo andarmene via Vediamo se qui c'è una task Emy, tu mi stai seguendo troppo E quindi? Sei l'impostora? No Vedi che sei l'impostore, perché mi stai seguendo? Dice uno nero e uno blu Io me ne vado, io me ne vado Allora, mettiamo un po' di benzina No! Il rosso mi ha ucciso Emanuela Vota rosso, vota rosso immediatamente Vota rosso Emanuela Emanuela devi votare rosso Oppure tua zia, non è che tua zia è l'impostora? Non lo so Non lo sapremo mai Allora il rosso è sicuro Perché ti ha ucciso Perché mi ha uccisa Secondo me poi... Vediamo cosa va a succedere Vediamo chi vota, no? Ah, proprio il rosso è chiamato poi Ha fatto la... ha premuto il pulsante Come ha fatto, scusami, se stava dietro di me E lui mi ha uccisa Perché si poteva schiacciare un tasto per chiamare da là Dici? Se uno è morto Ah E si avvicini Vediamo cosa succede, vediamo chi esce Emanuela Vediamo chi esce Uno Vediamo Allora, è stata votata sia tua zia che il rosso due volte Vediamo chi esce Ah, non è stato buttato nessuno fuori e sono rimasti due impostori Emanuela, tu mi seguivi troppo Ah no, ma non è vero, non mi hai uccisa tu Però potresti essere l'altro impostora Io comunque vado a cercare le mie tasche da fantasma Allora, vediamo Io non ti posso nemmeno vedere No, tu non mi puoi vedere No No Allora, mi sono incastrata qui dentro Qui non c'è una task Io vorrei scoprire chi è l'altro impostore Perché dovete sapere che Emanuela e Monella non mi dice quando è l'impostora Vabbè, c'hai ragione Però a volte mi uccide anche, mi uccide anche Allora Una volta Mamma stava facendo una task Era il blu, non eri tu Stava facendo Hai detto la verità, brava Una volta mamma stava facendo la task Eh E io l'ho uccisa Bravissima Allora Chissà se questa volta una delle due sarà l'impostora Io rimango rosa No, voglio rimanere rosa Vedete che carina Mi sono fatta i codini neri Le trezzine Le trezzine Sono trezzine nere Tu sei rosa con le orecchiette da gatta Molto carina Qui abbiamo l'arancione Dovemo aspettare altre sedici secondi Quindici Quattordici Tredici Tredici Dodici Undici Dieci Nove Otto Sette Sei Cinque Quattro Tre Un unico fruscito Due Uno Silenzio Allora Emanuela Io non sono l'impostora Lo sei tu? No Vabbè Perché ho fatto Perché come al solito Non sono io l'impostora Perché sono sfigata Sono proprio una sfigata Dove sei Emi? Non ti vedo Ti sto cercando in giro Ma non ti vedo Perché mi cerchi? Perché voglio giocare insieme a te Emi No Come no? No Dobbiamo giocare insieme No perché se sei l'impostora Poi mi prendi Che ti dice che sono l'impostora? Ma io non ti ammazzerei mai Non è vero Non è vero Vabbè Io vado a fare le mie task Tu dove sei? Dove ti trovi? Ehm Te lo dico Vabbè Io non ho perso tutti quanti Però io non vedo nessuno Qui in giro Questa cosa mi turba Ho trovato uno Chi? E' andato in giro a fare le altre task Si è perso Qui c'è una task Ora la faccio Faccio una task io Perché ridi? Non posso ridere? No Sono felice Di cosa? Come di cosa? Di cosa? Ma zitta Non commentare Allora Tu hai fatto le tue task Emi? Si le sto facendo Bravissima Se guardi c'è una linea Si infatti ti ho vista passare Ti ho vista Perché? Ho riconosciuto le orecchie Ma Qui c'è tua zia Ho visto passare anche Vediamo Sta facendo le task O è lei l'impostora? Vieni qui zietta Dove vai? Perché scappi? C'hai paura? Oh mio dio Ho vinto Ero io l'impostora Ero io l'impostora Emanuela Mi spiace Però a me non mi ha uccisa Non ti ho uccisa perché so che tu ti arrabbi Forse anche tua zia si arrabbia Però purtroppo questo è il gioco Che dobbiamo fare Se sono l'impostora Vieni tua zia Si è messo il costume Da ape Molto carino Aspettiamo la prossima partita Ecco qui in un'altra partita Emi sei rimasta delusa Che ero io l'impostora? No Perché già si vedeva Della risata Allora Riva da fare le mie task Mi raccomando Non perderti Su questa navicella Impostora O impostatrice No impostatrice Non mi piace Impostora Mettiamo impostora Anche se Non si dice impostora In italiano Vabbè io vado a cercare Le mie task Vado in giro Qui e lì Nonno nino Ti hai fatto una task? Si Brava Infatti ti vedo Che stai lì a fare la task La stai già facendo tu Quindi io me ne esco Che bello Anch'io voglio la corona Ops Mamma Ti sei offesa? No Brava Perché devi essere sportiva Ho vinto Emanuela Eravamo io E il verde Ma no no Ma hai solo Ucciso una persona Come è stato E non lo so Perché poi lì In questione di Non lo so Su Among Us Come funzioni Emanuela Molte volte le partite Durano poco Come mai Perché magari Un'altra persona Tu dici O qualcuno ha fatto Tutte le task No Se uno di noi Fa tutte le task Io per esempio Ho fatto tutte le task L'altro giorno Sono riuscita a farle Sono riuscita a farle tutte Abbiamo vinto Noi Cremets 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 Silenzio Silenzio Emanuela Emanuela Toccherà a te Ora fare l'impostora Io me lo sento Tu sei l'impostora Non è vero Va bene vedremo Io vado a fare le mie tasche Non mi seguire Come hai fatto prima Prima mi sei stata troppo appiccicata Potevi essere la seconda impostora No Non ero l'impostora Vabbè Allora Ma chi è questo col sombrero C'è un cappellone enorme Tua zia se ne scappa Ma che fa Mamma Non lo so che cosa sta facendo C'è troppa gente qua Devi fare una task Sì sto cercando le task Ora la faccio Mi hanno uccisa Ti hanno ucciso Chi è stato Emanuela Sei tu Ma no Non sono stata io Vedi che sono qua Vabbè adesso tu sei un fantasma Mi puoi vedere Sì Eh vedi Non è colpa mia Qualcuno di Cattivo Stavi tu E quello lì col cappello Ma sicuramente è stato quello lì col cappello Eh non dare la colpa a me ogni volta Ma che vuoi Se tu stai là Ci saranno due persone Poi io sono volta Mi vado a fare la task Zic 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 Vuoi fare la task Ecco qui Tra l'allero Tra l'allà Vado di qui Vado di là Ecco qui Vado a fare lì Tua zia è andata a fare le tasche Sì Ma chi lo sa Vabbè Emanuela Alla fine tu sei un fantasma Giusto Quindi Sì Ti posso dire che sono io l'impostora Ucciso anche tua zia adesso Sono io l'impostora Per la terza volta Qualcuno ha chiamato la discussione Emanuela Forse ti hanno vista Oddio no Spero di no Non è che mi sbattono fuori No Ti hanno vista Vediamo se mi hanno vista Ce la farò Io non verrò cacciata fuori dalla navicella Vediamo se qualcuno mi vota Qualcuno ha votato già Io ho votato Qualcuno ha votato già No ancora no Ancora nessuno Però siamo in quattro Vediamo un po' Dai su Vedrai che non verrò sbattuta fuori Emi Yes Non esserne così sicura Yes 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 Io sono l'impostora con i fiocchi Non fare la monella Allora ok vediamo Aha Sbatteranno fuori l'azzurro Vedi perché ha preso tre voti Vediamo Eccolo infatti Ciao Fai ciao Aha Ciao Mi dispiace È rimasto un impostore Cioè che sono io Aha Ma nessuno lo sa Allora Io vado a fare le mie task Sì come no Aha Sono rimaste in due Vedi come sfuggono Hanno paura di essere presi Perché non l'hai ucciso? Perché Devo aspettare che è da solo Era da solo No erano in due Che camminavano insieme L'altro se mi vede Poi va a schiacciare il pulsante Per la discussione E mi volta No ho visto solo uno No erano in due Erano uno avanti e uno dietro Ma li ho persi Ma dove sono? Emanuela li ho persi Ma tu da fantasma Mi riesci a vedere O stai vagato O stai facendo le task Vediamo se li trovo Li devo trovare Devo trovarvi Oddio non trovo più nessuno Ma neanche qui stanno Hanno schiacciato il bottone Emanuela No Ora vi condannano Non puoi Vediamo se mi sbattono fuori A questo giro Basta ma che fai le pernacchie Sette secondi Sei secondi Cinque Quattro Tre Due Uno Vediamo se mi votano Oddio secondo me Mi sbatteranno fuori Ne ho due di voti No Non importa Comunque ho giocato bene Ok ragazzi Per oggi il video finisce qui Noi continuiamo a giocare Io sto facendo la mia task Emanuela salutiamo Ciao E che devono fare? Iscrivetevi al canale Attivate la campanella E lasciate un bel like Se questi video vi piacciono Fatecelo sapere Spolliciando e facendo esplodere Il nostro canale Ciao a tutti Ciao